Buon Dio, eccoci al terzo giorno di io resto a casa. E che mi fa? Adda passano, come dicevi, è vero. E quindi io adesso vi racconto la terza favola del giorno, ambientata sempre nel mio paese. Tanto tempo fa, in un paese basato dal sole e dal mare, c'è stato in un negozio che veniva tutta cosa. Volevano chiunque per attaccare un quadro o trovare. Volevano una brocca per l'acqua o trovare. Volevano una vernice per pittare una porta o trovare. Ma la cosa più strana è che potete trovare pure tutti i sentimenti e tutta l'umanità. Come? I sentimenti? Ma quello non si venne. Non ne venne nessuno, purtroppo. E invece, ah, era scordata, in questo negozio, c'è stato un maniello, piccirino, piccirino, scuro, scuro e carnagione, con l'occhio verde, verde, come una prete esmeralda. E che stommi non diceva ne manca una parola. Ma non appena traseva in tuo negozio, già sapeva che la caviva accattata e taglieva pia. Noi ormai, trasevano una mamma e una figlia. Cosa stavano appiccicando? E gli dicevano, io non ne ho, perché io non avevo trovato questa colpa di noi. E cercavano una bagnarulella per la pepe. Ma l'umaniel, appena i brettati tutti e due, ci venne subito in un cuop con 100 grammi e pace, e 50 grammi e bene. E allora, non appena vi rettano un cuop, si sono dettano a face, e se ne viettano senza cattone e manca la bagnarola. Ovviamente, se ne ascettano sempre a piccicare, ma no, perché non gli vanno a fare questa colpa, ma non gli vanno a fare questa colpa, ma non gli vanno a fare questa colpa. Insomma, in tua pomeriggia, si appresenta in una bicchiarella, triste, triste, che cercavano un martello per attaccare gli uova. Ma l'umaniela capetta subito, e ci portai in un cuop con due grammi e felicità. E perché è così poco? Perché chi ti fa i vecchi, e chi ti basta poco per essere felice, abbracciai un figlio lontano, un vaso e una moglie, una zippa fatta con il cuore. E così ho la bicchiarella, piai che la coppa di ella, e se ne tornai a casa. Ma una mattina, si appresenta in un negozio, una criatura, che cantava e pazziava, con una curducella tutta felice. Allora l'umaniela, appena avrete la criatura, capetto tutta cosa, era arrivato un momento, e chiudere il negozio, e pensano poco pur a esse. Piai a sta criatura per mano, e si allontanai in cantante e regna, tutte e due. e qui. Piai a la città.